Augusta, buone notizie per l'arsenale militare marziano, in arrivo circa 50 assunzioni. Per la funzionalità dell'arsenale del porto di Augusta in generale, lo scorso 18 dicembre è avvenuta l'approvazione della Commissione Bilancio dell'emendamento alla Regge di Bilancio presentata dagli onorevoli Andrea Orlando del PD e Giovanni Luca Aresta del Movimento 5 Stelle, sostenuto dal sottosegretario della Difesa Giulio Calvisi. Lo comunica l'ex Assessore regionale della Formazione Professionale, onorevole Bruno Marziano. L'emendamento al piano di difesa è fortemente voluto dal ministro Lorenzo Guerini, che prevede l'assunzione di personale civile per garantire la funzionalità della difesa, in particolare negli arsenali militari e nei poli di mantenimento dell'esercito. Il risultato ottenuto è frutto della proficua e costante collaborazione tra le forze di maggioranza su un tema particolarmente importante e strategico per la difesa. Personalmente ho avuto più di una interlocuzione con il sottosegretario Calvisi per garantire la presenza dell'arsenale di Augusta in questo emendamento e affrontare così con decisione l'attuale fase di depauperamento di risorse umane negli arsenali militari come quello di Augusta, sottolinea Marziano. L'obiettivo con questo emendamento è stato raggiunto e ringrazio in particolare sia il sottosegretario Calvisi che l'onorevole Orlando, con i quali sono stato e sono in contatto per l'ottenimento di questo risultato. Il provvedimento infatti autorizza l'assunzione di 431 unità di personale civile non dirigenziale negli arsenali di La Spezia, 138, Augusta 49, Brindisi 40, Aulla 17, nei poli di mantenimento di Piacenza 154 e Terni 33 nel triennio 2021-2023. Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della Difesa, in particolare, afferma Bruno Marziano, di arsenali e nei centri tecnici militari a carattere industriale. Si tratta di strutture strategiche di supporto al mantenimento e efficienza di mezzi ed equipaggiamenti con un interessante indotto, come nel caso dello storico arsenale Marinarsen di Augusta, dove prestano la loro opera anche varie ditte portuali con sede ad Augusta e non solo, oltre a fornitori vari di servizi e beni strumentali. Ora si tratta di vigilare e mi impegno personalmente ad avere una continua interlocuzione, conclude l'onorevole Bruno Marziano con Calvisi e Orlando affinché rapidamente si arrivi ai concorsi e alle assunzioni.